non c'è niente di più rilassante di sedersi in una stanza calda e sudare i nostri antenati lo hanno scoperto almeno un migliaio di anni fa oggi associamo le saune alle palestre ai trattamenti da spa ma una cosa è certa e ce la dicevano le nonne sudare fa bene quando si vive in città è difficile trovare uno spazio in casa per costruirsi una sauna ma per nostra fortuna c'è una soluzione una sauna da interno retraibile il materiale di queste saune è un laminato di legno ad alta resistenza ricavato da alberi a provenienza sostenibile il laminato non è solo robusto ma neppure si deforma un fattore fondamentale quando si costruisce una struttura che sarà soggetta a rilevanti sbalzi di temperatura e umidità un addetto utilizza una sega circolare per tagliare il laminato aiutandosi con un sistema computerizzato che colloca i travetti di legno in posizione con una tolleranza di un decimo di millimetro nella postazione successiva l'addetto posizione laminato in modo che una foratrice automatica possa realizzare una serie di fori all'estremità consentendo all'addetto di inserire due tasselli e incollarli un secondo addetto prepara le componenti che saranno utilizzate nella fase successiva posizionandole di fianco riempie i fori con della colla ad alta resistenza ora può iniziare l'assemblaggio del laminato l'addetto inserisce delicatamente i tasselli fissandoli in posizione una volta terminato questo diventerà il telaio di uno dei pannelli isolanti altamente tecnologici della sauna l'addetto posizione il telaio in una pressa che esercita una pressione attentamente calibrata su tutti i lati assicurando un montaggio solido e durevole in ogni punto questo è un materiale isolante a elevate prestazioni tre volte più efficace di altri materiali sul mercato è tale qualità a consentire alla struttura di essere sottile collocato il materiale isolante l'addetto inserisce i pannelli in una pialla che li schiaccia su entrambi i lati per dargli uno spessore omogeneo successivamente i pannelli vengono sottoposti a una fase chiamata costruzione della stabilità del telaio questa procedura aggiunge una serie di strati ad ogni pannello incluso un rivestimento esterno altro materiale isolante una barriera antivapore e il pannello interno incompensato al termine le pareti avranno uno spessore di soli 30 mm nonostante la leggerezza della struttura il potere isolante è molto efficace un addetto attacca un collante speciale su ogni strato prima di posizionarlo sotto una pressa specializzata che infonde calore e pressione per fissare insieme tutti gli strati i pannelli passano quindi in una fresa computerizzata pronti a essere ritagliati l'operazione è completamente automatizzata il macchinario infatti valuta le dimensioni del pannello con un sensore che gira intorno al perimetro e ritaglia i bordi per ottenere la larghezza richiesta in pochissimo tempo i pannelli scorrono sul nastro trasportatore mentre un macchinario utilizza un collante per aggiungere un'impiallacciatura lungo tutto il perimetro e la fissa attraverso calore e pressione in modo che possa tollerare calore e umidità questa procedura è definita a fuga zero perché copre ogni lavorazione effettuata sul pannello il macchinario può applicare un'ampia gamma di impiallacciature a seconda delle richieste del cliente il pannello di controllo consente di personalizzare la temperatura e la durata della permanenza in sauna due pulsanti laterali controllano l'apertura e la chiusura della struttura questo sistema a binari realizzato su misura è ciò che rende questa sauna unica realizzato con guide resistenti componenti autolubrificanti e cuscinetti a sfera solidi e durevoli è lui che consente alla sauna di compiere la sua magia grazie alla lavorazione di precisione quando l'addetto deve unire la parete portante ai pavimenti del soffitto del pavimento le parti combaciano perfettamente è il momento del cuore della sauna questo radiatore molto potente realizzato con una speciale finitura che rende superflue le comuni protezioni di sicurezza e la sauna retraibile è finalmente completata pronti a sudare